Bentornati! Ecco dunque che il nostro cammino sugli atti degli Apostoli giunge nella sua seconda parte vera e propria, quella in cui c'è proprio l'azione missionaria esclusivamente di San Paolo. Dopo che nei primi capitoli San Luca ci ha descritto la vita della comunità a Gerusalemme, dopo averci descritto l'attività missionaria di tanti evangelizzatori, Filippo, Pietro, Barnaba, Paolo e dopo il grande concilio di Gerusalemme dove tutti sono convenuti i protagonisti di questo libro, potremmo dire così, a Gerusalemme, ecco che di lì tutto di nuovo parte e parte in maniera davvero straordinaria e sconvolgente con un'azione, quella di San Paolo che è bellissima, condotta dalla forza dello Spirito Santo, che non solo dà successo alla sua parola, alle sue opere, ma anche cambia radicalmente talvolta i progetti degli evangelizzatori. Ad esempio Paolo vorrebbe addentrarsi nei territori dell'Asia minore e invece lo Spirito Santo lo impedisce finché un sogno lo chiama addirittura avvarcare le soglie dell'Asia e giungere in Europa. Giunge infatti in Grecia a Filippi dove comincia l'evangelizzazione, potremmo dire, dell'Europa, di un continente nuovo, di una terra totalmente estranea anche al suo modo di vivere, di pensare, di vedere. San Paolo viene condotto attraverso successi e insuccessi, attraverso slanci e attraverso mortificazioni a condurre la parola del Vangelo ovunque. Giunge addirittura ad Atene, che è il cuore culturale dell'epoca, e ha l'opportunità di rivolgersi ai grandi saggi, ai grandi filosofi della sua epoca, pensando quindi di avere una grande opportunità, un grande successo, cosa che invece non avviene. Giunge poi anche a Corinto, che invece è la città, potremmo dire, in qualche modo più baffamata, ma anche quella in cui giravano tutti i commerci dell'epoca antica in qualche modo, e lì San Paolo ha un successo evangelizzatore straordinario, tanto che quella di Corinto diventa una comunità tra le più importanti della chiesa antica. E poi giunge, tornando in Asia, ad Efeso, lì dove nasce la comunità che potremmo dire a lui è in qualche modo più cara, in cui trascorrerà forse i periodi più lunghi della sua vita di evangelizzatore. È un'avventura straordinaria che puoi leggere in questi capitoli, dal capitolo 16 appunto subito dopo il Concilio di Gerusalemme, dove si svolge anche la rottura molto significativa tra Paolo e Barnaba, per cui si dividono campi di evangelizzazione a causa di un fraintendimento, di un piccolo litigio tra di loro, e termina, potremmo dire, in una prima parte nel capitolo 20, in cui c'è il grande discorso ai saggi di Efeso, ma in qualche modo continua fino al capitolo 22, in quanto è lì che lui a Gerusalemme viene portato, viene arrestato, viene in qualche modo processato. Questa opera di evangelizzazione si conclude in una maniera davvero bizzarra, come è nella logica degli atti degli apostoli che San Luca vuol farci vedere, in cui il protagonista non sono le grandi intuizioni che hanno San Pietro, San Paolo, gli evangelizzatori, ma è la forza di Dio che opera attraverso il suo spirito. E questo epilogo è quello appunto di San Paolo che vuole incontrare il nuovo a Gerusalemme, la chiesa da cui tutto nasce, a cui tutto ritorna, ma ecco che proprio lì viene arrestato. Deve subire un nuovo contraccolpo, una nuova controversia con quelli della sua religione antica e da lì parte invece non tanto il fallimento dell'opera evangelica, quanto proprio il suo rilancio definitivo, come vedremo nel prossimo ed ultimo incontro sui atti degli apostoli. E allora tu anche puoi chiederti se vuoi essere un evangelizzatore come San Paolo, guidato non tanto dal successo o meno delle tue idee, delle tue iniziative, delle tue parole, ma unicamente guidato dal successo che lo Spirito Santo dona alla tua vita. Leggi questi capitoli che sono davvero pieni di avventura. Lasciati conquistare dalla forza dello Spirito Santo e chiediti, io posso essere evangelizzatore così? Come posso farlo? Ci vediamo il prossimo giovedì. Ciao! Ciao!